in vacanza con i miei bimbi questo viaggio lo distrugge siamo solo appena partiti Aria e Golia Peppino risuscitato Tata Lollo Lollo guarda dietro e Aria guarda davanti prima sosta in Svizzera Golia meglio che cambio visuale perché ci siamo cambiato privacy ciubi il lago è ghiacciato vieni qui Peppi è ghiacciato aria cambiamo visuale che anche lei è un momento privacy ma guardate che bello bimbi guardate che bello è l'olore felice e tanti? aria? vieni qui e Peppi nella neve la tatala e la tanti e noi i miei bambini vai Peppi oh mio dio è sprofondato Peppi Peppi aiutate Peppi è sprofondato che fai? andiamo guarda Peppi non ce la fa non ce la fa arrivati e andiamo a mangiare cercando di non cadere nel ruscello ci riusciremo? voi siete stati bravi andiamo un po' piano occhio a ciubi vai aria bravi bravi bravissimi bravissimi ma che bravi e questo è il nostro ristorantino tipico tedesco per questa sera i cani qui abbiamo la fortuna che sono i benvenuti in Germania li amano tantissimi e qui di fronte c'è il lago ghiacciato uno spettacolo guardate che bello tutta la banda sempre insieme noi vero? al ristorante Ciubecca vuole salire sulla sedia perché a casa lui ha la sua sedia dove mangia ma qui non si può bisogna rispettare le regole e essere educati aria disperata che non capisce dove siamo ancora e Lollo che se ne frega torna perché tanto lui ha mangiato ha fatto la cacca ha fatto tutto dov'è? disperato disperato perché vuole stare sul divano arrivati in hotel adesso si dorme e come si dice in tedesco vero Golia si dice non lo so ci riflette gutenacht Ciubi aria buonanotte bimbi buonanotte grazie a tutti